il tema della mobilità urbana ovviamente è uno dei più importanti anche al salone dell'auto di torino al parco valentino e l'espressione migliore di tutto questo sta nella toyota prius la nuova generazione toyota con orgoglio consente in questo weekend di vederla più da vicino e di farla provare all'inizio le vedevamo fondamentalmente guidate solo dai tassisti sono stati loro almeno nel nostro paese i veri tester per toyota e per questa tecnologia dei libri dove ricordate le prime prius erano di solito quelle proprie dei tassisti che comunque sono state un buon banco di prove in questi anni nella prima generazione nelle prime versioni perché ovviamente c'è stata l'opportunità di capire dove c'era da migliorare dove c'era assolutamente da cambiare e toyota fedele comunque la propria filosofia motore termico motore elettrico e tecnologia fatta perché in città si possa veramente avere una macchina efficiente dove i consumi sono ridotti al minio e dove anche per chi appunto deve girare magari tutto il giorno nel traffico cittadino meno stress più silenzio sicuramente è una arma vincente uno dei punti chiave di questo del successo di questa vettura questa è la nuova generazione con un design all'esterno che magari al quale ci si deve un po abituare ma anche l'interno e del resto stiamo parlando di una macchina dove lo sguardo è rivolto al futuro quindi sicuramente un po anomalo e diverso rispetto alle altre macchine perché qui c'è sempre tutto sotto controllo avrete già visto nelle immagini c'è la possibilità di vedere in ogni momento quello che sta combinando tra virgolette la macchina perché appunto per capire dove come funzionano le due parti diciamo del cuore di questa autovettura qui ovviamente non c'è il patema classico no vi ricordate soprattutto di una volta dei telefonini quantità che mi sono rimaste ci pensa lei nel senso che gestisce nella maniera ottimale l'energia e ciò di cui ho bisogno per andare nel migliore dei modi nel traffico cittadino e anche quando vi spostate oltre e vale dire nelle strade extraurbane ovviamente questa macchina dà meglio di sé in città ma se imparate diciamo la tecnica di guida adeguata anche nelle strade extraurbane sfatando un po la leggenda metropolitana una macchina che vi consente di vedere di consumi contenuti e di sfruttare davvero al meglio questa tecnologia che toyota porta avanti con successo da anni da sempre sono favorevoli al motore benzina perché consente prestazioni ottime e un motore silenzioso che ha bisogno di meno manutenzione e si sono rivolti soprattutto nell'evoluzione di questa macchina a migliorare ancora di più questo sistema che già c'era nella versione precedente ma non così ottimizzato come in questo caso e dunque i risultati oggi sono ancora migliori rispetto al passato poi parlando come se fosse una macchina qualunque anche se non è facile perché ti distrai con il display e con tutto anche con l'head up display che è fatto per non distrarsi ma un po quando non ci sei abituato succede ma diciamo a parte questo come tutte le altre macchine quello che possiamo notare che beh comoda all'interno nel senso che hanno lavorato bene sull'abitabilità sulla distribuzione dei pesi anche su quello che serve per mettere motore termico motore elettrico ma macchina anche comunque che strizza l'occhio a quelli che sono i dettami più recenti del design per cui comunque piacevole da guardare piacevole al tatto e poi ovviamente qui il il cuore e qua nel display centrale dove potete controllare appunto in ogni momento cosa sta combinando la vostra prius davvero molto interessante qua troviamo il sistema full hybrid di toyota nella sua ultima versione si tratta di un motore classico 1.8 ciclo atkinson con 99 cavalli codivato da un motore elettrico che viene considerato toyota motore principale cioè sempre acceso da 72 cavalli si tratta di un motore che accende l'auto quindi partiamo sempre a zero emissioni in totale silenzio e in questo caso si può apprezzare il lavoro che toyota ha svolto per quanto riguarda l'insonorizzazione dell'abitacolo sicuramente si viaggia nel silenzio più totale e forse si riesce a sentire il rumore del rotolamento degli pneumatici che è un po invadente ma contate che abbiamo dei cerchi da 17 quindi un pochino più rumorosa di sicuro in generale comunque è molto silenziosa come potete vedere dalle immagini dello schermo multimediale il sistema di toyota consente alle batterie di ricaricarsi in continuazione quando si viaggia soprattutto quando si frena e si possono ammirare diciamo i propri risultati di guida eco friendly e a proposito abbiamo provato una applicazione una specie di report che ti può dare tutte le informazioni su quanto sia guidato diciamo in modalità eco friendly questo che stiamo vedendo è il famoso test drive della verità di toyota quel dispositivo quell'applicazione che vi ho citato prima che spiega ci manda un report su tutto quello che abbiamo percorso il nostro breve percorso intorno al parco del valentino in questo caso riguardo alla nostra modalità di guida eco friendly questo cosa vuol dire ci dà una stima non so quanto possa essere veritiera però comunque interessante di quanti chilometri abbiamo percorso solo con il motore elettrico di quanti chilometri abbiamo percorso con i motori combinati e ci dà diciamo una visione in tempo quasi reale del test drive che abbiamo fatto infatti ho fatto partire qua ci fa proprio vedere il percorso che abbiamo fatto intorno al parco del valentino questo ci dà la possibilità di misurare se stessi sulla guida a zero emissioni sulla nostra capacità di guidare eco friendly e questa è proprio la filosofia che ha spinto molti proprietari di toyota prius a diventare sempre più verdi prossimamente avrete più informazioni su questo interessante dispositivo che è un'applicazione simpatica di toyota messa a disposizione soprattutto per i test drive grazie a tutti Grazie a tutti